È boom di nascite di funghi precoci a settembre in Toscana, dove sono purtroppo in forte aumento anche i casi di smarrimento e incidenti. Siamo appena all'inizio della stagione dei funghi e la cronaca è già piena di cercatori che si sono persi tra i boschi, mettendo a rischio le loro vite e quelle dei soccorritori, spiegano da Coldiretti. I boschi sono luoghi meravigliosi di svago e biodiversità, ma possono essere anche molto pericolosi senza i dovuti accorgimenti e la necessaria consapevolezza e competenza, così come crediamo sia necessario proteggere la biodiversità di un ecosistema che viene preso d'assalto, saccheggiato, spesso senza alcun rispetto, da parte del cercatore occasionale della Domenica, che abbandona rifiuti e distrugge la vegetazione e il patrimonio micologico. Ai fini di una ricerca in sicurezza, Coldiretti ha elaborato un decalogo per i cercatori di funghi con i comportamenti da tenere nei boschi. Per prima cosa, documentarsi sull'itinerario e scegliere i percorsi adatti alle proprie condizioni fisiche. Poi comunicare a qualcuno il proprio tragitto, evitando le escursioni in solitaria. Attenzione ai sentieri nel bosco che possono diventare scivolosi a causa della pioggia. Consultare i bollettini meteo e stare attenti al cambio del tempo. In caso di rischio fulmini, non fermarsi vicino agli alberi, pietre e oggetti accuminati. Usare scarpe e vestiti adatti con scorte di acqua e cibo. Non raccogliere funghi sconosciuti. Verificare i limiti alla raccolta dei funghi con i servizi micologici territoriali. Pulire subito il fungo da rame, foglie e terriccio. Per il trasporto, meglio usare cestini di vimini, evitando buste di plastica. Il consiglio finale resta quello di portare la raccolta presso i servizi micologici territoriali, per evitare casi di intossicazione e avvelenamento da funghi.